Chiusura in spolvero per piazza affari, maglia rosa del vecchio continente. Il Fuzzimib termina la seduta in progresso del 2,79%, superando la soglia dei 19.000 punti. In rialzo anche le altre borse europee, sulla scia delle voci, poi smentite, secondo cui la BCE sarebbe pronta ad acquistare bond societari. Francoforte guadagna l'1,94%, Parigi segna più 2,25%, Londra più 1,68% e Madrid più 2,28%. A Milano vola Mediaset, che chiude le contrattazioni a più 8,33%. Fra i bancari vanno molto bene BPM, più 5,48% e MPS, che segna un più 5,03%. Grazie a tutti.